Ciao a tutti amici collezionisti e bentornati nel canale, io sono Emiliano74, oggi per la linea Total Chaos prodotto dalla McFarlane Toys nel lontano 1997 abbiamo qui con noi Corn Boy! Prima di iniziare la recensione vi ricordo di visitare Mondo Action Figure, lo store numero uno per noi collezionisti dove trovare tantissime action figure e tutto ciò che riguarda la nostra passione inoltre vi ricordo che qualora foste interessati all'acquisto di un qualsiasi prodotto all'interno dello store potrete usare il mio codice sconto che vi lascio qui Emiliano74, questo vi darà l'opportunità di risparmiare il 5% sull'importo finale, in descrizione trovate tutte le info necessarie Ma veniamo a noi ragazzi, Total Chaos, McFarlane Toys, Corn Boy, chi è? Non lo so, nella maniera più assoluta Allora, ultimamente mi sto riavvicinando a queste figure della McFarlane perché in collezione ne avevo poco e specialmente di Spawn Non credo che questa figura appartieni al mondo di Spawn perché quantomeno nella confezione, anche se il design è molto simile alle creature appartenenti all'universo di Spawn però qui sulla confezione perlomeno io non vedo niente che riporti a Spawn È vero che dietro ci sono tutte le figure disponibili per la linea di Spawn, vedete? Ma questa qui di questo personaggio non lo è perché appartiene a questa linea qua Total Chaos, Serie 2, McFarlane Toys, dove ci sono queste altre figure e niente di più Tra l'altro sono interessato anche a questa qui, Quartz, che è veramente un ciccione strepitoso A me più sono strane e più mi piacciono Comunque ragazzi, cosa vi posso dire di questa figure? Allora, praticamente l'unica notizia che ho trovato è praticamente questa piccola biografia che sta qui che ho tradotto per voi Adesso ve la vado anche a leggere Perché credo e sono quasi sicuro che questa è semplicemente una linea di action figure e basta E quindi non ha nessuna correlazione con fumetti, videogiochi o quant'altro Quindi è semplicemente una linea di figure della McFarlane e niente di più Comunque, chi è sto pupazzone? Allora, adesso ve lo... anzi no, facciamo una cosa Lo tiriamo fuori dal blister e ve lo dico dopo Abbiamo tirato fuori dal blister il nostro ragazzone Prima di andarlo a vedere nel dettaglio sia lui che i suoi accessori Come promesso vi racconto un po' quello che sono riuscito a tradurre di questa piccola biografia che gli hanno appioppato Dunque, questo Corboy era un ragazzo del Podunk in Indiana Dai modi molto gentili e dal carattere mite e tranquillo Fu poi trasformato, non chiedetemi da chi perché non lo so In questa mastodontica creatura mutante che oltre ad avere una forza sovrumana è provvisto anche di un sistema di armi come vedete Cibernetiche incorporate in diverse parti del corpo Questo per facilitarne i combattimenti a lungo raggio I nemici ora sanno che quando vedranno la coda di cavallo Questa qua E gli stivali rossi Questi qua Entrare in battaglia L'unica opzione sarà La resa E questo ragazzi è tutto ciò che posso dirvi Di questo personaggio Allora, andiamo a vedere un po' cosa c'era nel blister Allora, intanto c'era questo foglietto illustrativo con tutte le figure che in quegli anni sicuramente erano disponibili della McFarlane Toys Come vedete qui ci sono diverse linee di Spawn Qui addirittura Yis, i Monsters, altre di Spawn Questo di Spawn Movie del film Qui questa linea Total Chaos E qui Manga Spawn Quindi chi più ne ha, più ne metta Ok, andiamo a vedere questa figure Che ragazzi Cioè, è favolosa Mi piace un casino Cioè, appena l'ho tirata fuori dal blister l'ho toccata con mano Cacchio, è pesantissima È fatta veramente bene Cioè, è nata come un giocattolo Questo è poco ma sicuro Ma ragazzi, vi posso garantire che non è soltanto un giocattolo Allora, vediamo i suoi accessori Intanto c'ha questi due mega cannoni che vanno applicati in entrambe le braccia Provvisti ognuno di loro del proprio missile ascio E possono essere quindi anche lanciati Vabbè, non sparano chissà dove Però comunque possono essere lanciati Guardate anche i dettagli di questi accessori È plastica vuota, eh? Questo sì, almeno per quanto riguarda questi accessori Però guardate ragazzi, la scultura e il painting Cioè, hanno saputo rendere Cioè, non c'è nulla di plasticoso, di giocattoloso Guardate in che maniera sono stati dipinti È fantastico il lavoro che abbiamo Comunque stiamo in casa McFarlane Quindi non c'è da sorprendersi più di tanto Anche se comunque parliamo di una figure che ha ben 21 anni ragazzi Quindi voglio dire Gli anni anche si fanno sentire E sono sempre più convinto che figure attuali Di questa fattura non ce ne sono Allora, qui vediamo quest'altro bel lancia missile Guardate com'è realizzato anche questo Fantastico Ovviamente i stessi dettagli sono riportati anche qui I stessi che abbiamo visto di là Quindi ottimo scalte e ottima colorazione Andiamo a vedere questo ragazzotto Allora, intanto la cosa che mi ha lasciato Guardate qui c'è una coda di capelli veri Oddio, vabbè, di qualche bambola Non lo so, sintetici Comunque, guardate che figata Anzi, questi mi sa che gli distacco mi li metto io Che ce n'ho bisogno Veramente fantasma Comunque sono dettagli fighi Dai ragazzi, non è... Non le vediamo tutti i giorni queste cose, no? C'è addirittura qui Per fermarli un anellino in metallo Che praticamente oltre ad essere incollati Sullo scalte qui dei capelli della testa Comunque c'è anche il dettaglio di questo anellino Che sta un po' come fermacapelli Come fermaglio, che ne so Comunque guardate che meraviglia ragazzi Dai Non gli si può dire niente È fatto veramente, veramente bene Guardate quanti dettagli Mi ricordo un po' il Bane di Batman Della linea Arkham Siete d'accordo con me? Con questo corpo tozzo sopra Le gambe più piccoline Tutti questi tubi che entrano Escono in ogni parte del corpo Vedete? Di dettagli ce ne sono veramente, veramente tanti Guardate da voi Forse qui su queste parti Viene a mancare un po' la stessa cortezza Che invece hanno avuto su questi accessori Vedete? Qui manca un po' di lavaggio di nero Ma queste sono minchiatelle Che se vogliamo gliele possiamo fare anche noi È veramente fantastico Guardate questo corpo Che non si sa se sono muscoli Se è fatto mezzo di roccia Non si capisce bene Cioè è comunque un corpo umano mutato Questo sì L'idea la dà Di una mutazione abominevole Comunque Niente Vediamo anche i pantaloni Anche qua sono realizzati molto bene I pantaloni come vedete Ci sono diversi accessori Come questo paraginocchio Questa ginocchiera Scusate Anche di qua Una di un modo Una dell'altro Le scarpe rosse Queste che metteranno paura ai nemici Realizzate molto bene anche queste Guardate da voi Qui i tubi sono ovviamente realizzati In gomma morbida Qui ci sono anche questi dettagli Di queste Licinamente non lo so che cosa sono queste Perché stanno anche Su questo lanciamissile Vabbè Non lo so Saranno dei dettagli Cibernetici Vabbè Comunque Questo Allora Togliamo il missile Se no Magari ci parte Ce lo diamo sui denti Questo va qui In questo modo Con il suo missile Eccolo Questo va di qua Un attimino Adesso vi faccio vedere anche Le articolazioni Lì ci sarà poco da dire Perché sono veramente limitate Ecco qui Questo va a completare tutto L'arsenale Che si porta dietro Vabbè Ditemi voi ragazzi Se non è una figata Dai Nell'insieme Rende veramente Tantissimo Fa la sua Gran bella figura Guardate che figata Vi faccio fare un giretto Fighissimo Cioè a me sta roba Mi fa un passino Mi piace troppo Guardate la coda La coda De cavallo Suprema Fantastico Allora Vediamo le articolazioni Come dicevo Sono veramente Poche La testa fa Questo movimento E basta Le braccia Vengono in avanti E indietro C'è la rotazione Delle mani E le gambe Avanti E indietro Basta Tutto lì Non c'è nient'altro Da vedere Sulle articolazioni Però la figura È stabilissima Quelle poche pose Che può Fare Sono Carine Rendono molto Vogliamo mettere Un pugno così Uno un po' più in basso Lo possiamo fare Eh Che ne dite Carinissimo Dai Mi piace un sacco Allora Vediamo quante altre Alto Non è altissimo Come vedete È più Largo Che lungo Comunque Stiamo Alla testa Sui 16 cm Se poi contiamo Tutto l'accrocco Che porta dietro Arriviamo sui 19 Mentre invece È molto Molto largo Braccia a braccia Sui 13 cm Con tutta Sta roba attaccata Stiamo quasi A 20 cm È un Bisonte Fighissimo Ragazzi Beh che dire Io Concluderei qui la recensione Non c'è molto da dire Perché comunque Non è un personaggio Come dicevo È noto Conosciuto Per lo meno Alla gran parte Dei collezionisti Che mi seguono Penso Comunque È una figura Notevole Un design Veramente Carino Io Ripeto Sto Pian piano Prendendo queste figure Della McFarlane Anche appartenenti A serie molto vecchie Come questa Che è la seconda serie Appunto Del 1997 Che come vedete Ragazzi Di dettagli Ce ne sono Veramente tantissimi Sia di scalte Che di painting E quindi Mi farà molto piacere Creare un angolo Dedicato a queste figure Voi fatemi sapere Come sempre Cosa ne pensate Se vi è piaciuta Questa recensione Lasciate un bel pollicione In su Se siete nuovi Nel canale Iscrivetevi E cliccate sulla campanellina Per restare sempre Aggiornati Con i nuovi video In uscita Troverete tantissime Playlist Sempre aggiornate Quindi Di cose Ne trovate Veramente Veramente tante Io ragazzi Con questo Vi saluto Vi ringrazio Vi rimando alla prossima Ciao a tutti Da Emiliano E da Cornboy Ciao a tutti